Il schiaponte in questo momento, e non ce ne dimentichiamo, è in assenza di parcheggio. E' uno dei primi deterrenti, perché non c'è modo di parcheggiare e quindi di andarci. Quindi la ZTL, per quanto mi riguarda, trova poco spazio, più detto anche all'amministrazione comunale. In assenza di parcheggio la ZTL andrebbe quantomeno, la maggior parte restretta. Magari sabato e domenica restringeranno ancora più le ore della ZTL, chiaramente per dare più vivibilità. Il secondo deterrente, e non ce ne dimentichiamo, è l'acqua alta, che costringe le attività che subiscono questo problema dell'acqua alta e quindi preferiscono chiudere, perché sennò prendono solo danni e non trovano. Per quanto riguarda invece l'analisi della concertazione delle aperture e chiusure, della similitudine delle bar-bar, negozio-negozio e via dicendo, io la domanda che mi pongo senza polemica assolutamente, ma esiste un borgo di Celsa, di Schiaponte, dove c'è un consorzio dove sono tutti riuniti? Quindi, se esiste ancora e se è ancora presente, se è ancora vivo, io prego di riunirsi, magari portando e sollecitando, anche a me personalmente, che sono sempre ischiapontese di nascita, perché mio padre ci ha fatto tanti anni di Schiaponte, compreso mio nonno, quindi sono affezionato a questo territorio, e magari sottoporre all'amministrazione comunale una serie di obblighi laddove fossero possibili a livello di norme e giurisdizione. Grazie a tutti.